Un'ora di ritardo dovuta a un incidente che blocca la squadra lungo il viaggio d'andata verso Rovereto. Poi in campo, la Dolomiti Bellunesi ci mette mezz'ora a trovare la chiave giusta per sbloccare il punteggio contro i Trentini del Mori Santo Stefano. Non riuscendo a dare l'accelerata decisiva alle proprie azioni, arriva in soccorso l'errore del portiere Luciani alla mezz'ora, che consente al centravanti Marco Nunic di siglare il suo primo gol italiano nel giorno dell'esordio da titolare. Appena dopo si arrende Thomas Cossalter causa infortunio, dentro al suo posto Toniolo. Gli ospiti cercano di raddoppiare, ma nel finale di frazione si aggrappano al portiere Virvilas che evita distinto il pari giallo-verde. Meglio la ripresa in cui la Dolomiti preme da subito sull'acceleratore, guadagnando al sessantesimo con De Pauli il rigore del raddoppio trasformato da Caprioni, 2-0 e terza rete consecutiva dell'attaccante Romagnolo. Dentro ora anche Cozzaria è il debuttante classe 2006 Masut, e proprio Cozzaria, il sessantasettesimo, si inventa un super assist verso Nunic, il quale in diagonale fa tris e sigilla i tre punti che si traducono nella seconda vittoria esterna di fila, e il terzo posto a quota 7 lunghezze dietro a Clodi in semestre, che viaggiano al momento a punteggio pieno. Può dunque essere ben contento l'allenatore Nicola Zanini. Sì, loro probabilmente hanno impostato la partita su riconquista e ripartenza, infatti ripartivano forte quando abbiamo commesso degli errori tecnici, secondo me dovevamo chiudere prima la partita al primo tempo, abbiamo avuto due o tre occasioni chiare, clamorose, e dovevamo chiuderla. Perché se no le partite rimangono aperte, dopo succede quello che è successo a fine primo tempo, su una palla lì vagante può succedere che subisci i gol. Dopo il secondo tempo, effettivamente, dopo che abbiamo fatto il 2-0 per la partita, l'abbiamo presa in mano totalmente, e penso merito meritatamente. Domenica c'è la prima di due partite consecutive al Polisportivo di Belluno, con la sfida contro il Campodarsego. oggi ancora imbattuto con una vittoria e due pareggi. Seguirà la settimana successiva l'incrocio con il neopromosso Bassano.